Sono oltre la metà gli studenti fuori corso dell'Università della Basilicata. Se a questo si aggiunge che il 75% dei lucani rispetto a una media nazionale del 22 sceglie di iscriversi in Atenei di altre regioni, il caso diventa allarmante. A riferirlo alla luce dei dati shock forniti dal Sole 24 Ore, il consigliere del PDL Forza Italia Michele Napoli, il quale reclama un nuovo approccio in netta discontinuità col passato sul futuro dell'Unibas. Cultura e ricerca sono indispensabili per favorire l'innovazione e lo sviluppo dell'intero sistema socio-economico regionale, afferma Napoli. È compito della regione, pertanto, analizzare in maniera puntuale i risultati prodotti dall'Ateneo e la capacità dello stesso di attrarre le commesse di enti e aziende. La soluzione, conclude il Presidente del gruppo consigliare PDL Forza Italia, sta nell'ancorare gli investimenti ad una valutazione puntuale e rigorosa degli effetti prodotti in termini di efficienza ed efficacia.